TIGER GAMES TIGER GAMES TIGER GAMES in questo video è diverso un po' dagli altri perchè in questo video volevo dedicarlo a Favij perché a Favij? perché a me piace molto Favij e lo seguo da quando aveva iniziato a fare video su FavijTV e quindi ho detto perchè non fare un video dedicato a Favij in questo tempo ho fatto dei disegni che in realtà si chiamano fan arte, quei disegni che fai per Favij. Quindi oggi c'è anche il mio gatto, quindi andremo a vedere, cioè ne ho fatte due, la prova e l'originale. Quindi il mio gatto dovrà scegliere tra le due. Ora intanto andiamo a vederle. Allora, questa qua è una fan arte che in pratica l'ho copiata da internet, l'ho vista da internet e ho detto vabbè facciamo questa, mi pare una un po' più facile. Come vedete questa è la prova, quindi è questa qua. Ora andiamo a vedere l'originale che penso che sia quella migliore, che è questa. Ora andiamo ad aprirla. La vuoi aprire te, Rocky? Eh? Vuoi aprire te? Oh, la vuole aprire veramente lui. Vai, apri, apri. Vabbè sì, è in pratica l'aperta lui. Oh, è stata ferma un po'. Non ce ne puoi andare così, devi scegliere prima tra le due. Allora, ecco qua l'originale, che penso che sia quella migliore, che ho fatto. Quindi ora andiamo a vedere il mio gatto quale sceglie tra le due. Le metto qua. Le metto qua, faccio spazio per il gatto. Ora, ma aspettate, ora ve lo faccio vedere quale sceglie. Vai, metti di seduto e devi scegliere tra le due. Seduto, buono! Ecco qua, il mio gatto sta per scegliere. Vai, scegli tra questa o questa. Vai. La metto più vicino. Scegliere una. Come avete visto, ha scelto questa, la prova. No, sei che è la prova, l'originale. Ha fatto la mia stessa scelta. Quindi, avendo scelto la prova, se la, questa prova, madonna, santissima, ha scelto l'originale, che è questa. E quindi, voi nei commenti mi scrivete quale vi piace di più tra la prova, che stavolta l'ho detto giusto, la prova, che è questa, o l'originale, che è questa, che ho scelto io, e il mio gattino Rocky, che ora ci sta giocando con questa cosa. Vabbè, sì, giocaci. Intanto, ormai ho fatto il video, quindi non mi servono più, perché cavolo... Vabbè, se il video vi è piaciuto mettete un bel mi piace, scrivete i commenti, e scrivete soprattutto i commenti delle due fanarte che vi sono piaciute. Io termino qua il video, per chi non è iscritto si iscriva al canale, e ci vediamo nel prossimo video. Bella ragazzi!